Anche se sul display appare un segno positivo per quanto riguarda la crescita del reddito disponibile pro capite e la capacità di spesa per famiglia, questo però non basta per far smuovere la provincia di Rimini dal fondo della classifica regionale, meglio in ambito nazionale dove resta metà classifica. Questo ciò che emerge dall'analisi sui consumi effettuata dall'osservatorio Finto Bestic 2017. In provincia di Rimini il reddito disponibile pro capite si posiziona a 19.908 euro più 2,1% confermando un trend di crescita costante degli ultimi anni ma ancora non sufficiente a raggiungere i livelli delle altre realtà dell'Emilia Romagna. A Ravenna si superano i 21.600 euro, mentre a Follicesena, seconda soltanto a Bologna, si sfiorano i 24.000 euro. La media regionale si ferma a poco, di sotto dei 23.000 euro e Rimini si colloca al 35esimo posto tra le province italiane. Con un basso reddito è facile prevedere un riflesso diretto anche sui consumi, infatti i dati mostrano una spesa per beni durevoli in crescita più 2,3% ma non abbastanza con 2.410 euro a famiglia Rimini anche nel 2017 e ultima in Emilia Romagna e 53esimi in Italia. Guardando poi i singoli settori aumentano del 5% in riminese le vendite di auto nuove e addirittura del 10,8% quelle di motoveicoli. Ma è l'unico slancio. Al settore mobili si registra un aumento dell'1,1% inferiore a quello nazionale, mentre la voce elettrodomestici solo Rimini meno 0,6% insieme a Fornicesena registra una diminuzione. Ancora peggio per l'elettronica di consumo meno 4,6% e per l'information technology meno 5,5% dove addirittura il calo di spesa è superiore a quello registrato in Italia.